in seguimento da film di guardie e ladri nelle scorse ore con tre dei componenti della banda che nelle settimane scorse ha messo a segno diversi colpi nei paesi della valle elvo erano a bordo di una delle auto avvistate più volte e accreditate alla banda si tratta di una peugeot di colore grigio che stavolta è rimasta in panne dopo aver letteralmente fracassato la coppa dell'olio contro una pietra sporgente di una strada sterrata che collega il territorio di ponderano alla zona del pralino di sandigliano è stata una volante della polizia di stato a notare il veicolo che corrispondeva all'identikit di quello avvistato più volte la fuga è stata dir poco accidentata i malviventi hanno messo a dura prova l'auto andando poi a sfasciarla a causa di un dosso di una pietra che ha forato la coppa dell'olio a quel punto sono scesi e si sono dati alla macchia a piedi nella boscaglia che costeggia quella zona il buio pesto purtroppo li ha favoriti le ricerche sono proseguite nelle ore successive ma senza esito i ladri stando a quanto emerso poi da una denuncia hanno rubato un furgone e sono tornati con tutta probabilità nel paese di provenienza che come accade spesso è sicuramente fuori provincia